ok allora vabbè tu Gianchi non c'eri sulle minuscole però poi la dispensa le puoi vedere tratteremo appunto delle maiuscole però rispetto a quello che avete qua vi farò anche delle varianti inizieremo poi subito con una A in variante perché insomma col tempo come ho scritto nel mio libro ho visto poi la data di emissione di quella mia dispensa del 2008 quindi ha ben 15 anni cioè come un bambino è invecchiata bene però secondo me io adesso sono in condizione di fare anche meglio e quindi insomma vi propongo delle cose che man mano mi sono venute in mente che possono migliorare allora la prima che vi propongo è questa qua che è diversa da quelle che troverete lì però secondo me è molto bella quindi ve la faccio poi ne facciamo ne facciamo un'altra di quelle due che sono proposte nella dispensa questa questa qui è fatta così allora si parte da molto alto così ecco questo un 45 gradi circa mi fermo un po prima della linea di base poi vado anche sotto non c'è problema qua curvo qua così e qua mi riprendo da questa altezza sopra questo corpo delle lettere sono sei gradi calligrafici quindi sei spessori che io già mi sono tracciato tanto sapete tutti cosa sono i gradi calligrafici e poi la costa la faccio leggermente ubiqua così vedete molto bella a me piace molto questa lettera quindi appunto la destrutturazione si parte da molto in alto chiaramente è una lettera particolare perché se sopra altre le devo vedere se mi ci sta questo svolazzo però se ci sta in modo quindi il primo segno parte da molto in alto e questo poi ho il secondo posso anche scendere sotto non c'è problema non vi tenete sulla linea potete scendere anche leggermente sotto quindi il secondo segno è così poi abbiamo il terzo che questo qua che si va a chiudere qua ecco mi raccomando deve deve vedersi in questo punto vedete la crescita in questo punto qua deve vedersi quindi quando ecco mi piace poi l'uso di questo inchioso perché si vede bene la sovrapposizione dei segni no quindi il fatto di averlo così ben distribuito mi consente vedete dove sono passato esattamente quindi dovete lasciare un po di spazio qua e poi fate la costa scendere leggermente inclinata sulla destra e questo è il quarto segno ok poi ovviamente la seconda parte faremo poi la parte relativa alle stesse lettere ma facciate a a gesso ok a gessi colorati allora la b a no facciamo una mi faccio fare una io vi faccio fare la seconda che mi piace un po di più che qua allora la seconda che abbiamo è così allora ho un primo elemento che è questo mi fermo poi mi metto qua circa un terzo un terzo di tutta questa lunghezza mi metto qua con mio pennino qua vengo giù facendo una costa e poi curvo qua ed esco così poi mi metto qua all'incirca a metà della lettera con un unico movimento vengo giù sottile a 45 gradi pieno tocco col bordo qua estremo del pennino sul lato sinistro e poi rientro parallelo a quello ok quindi ho 1 poi ho la mia costa con una bella uscita due e poi quell'unico movimento così che sempre a 45 gradi rispetto al piano quindi è così sottile posso farlo anche incurvato qua l'ho fatto dritto ma anche incurvato va bene e ritorno dritto così quindi e vado a chiudermi qua e questo è il terzo movimento ok la b allora la lettera b qualsiasi dubbio chiedete poi subito al volo eh non c'è problema poi possiamo rivedere allora la b invece vi propongo una b leggermente diversa da quella ma proprio leggermente nel senso che ho visto che fare questa questa asta qua è un po macello da sempre problemi alle persone e si può fare un un orpello qua un ricciolino che secondo me viene anche bene e ci togliamo la rogna di fare questo movimento poi se uno vuole provarci va bene non è però eh si può fare in questa maniera qua allora allora la cosa importante da capire che nella b io parto col primo movimento senza appoggiare tutto il mio strumento che poi qua è veramente grande perché un centimetro di anzi undici millimetri di di larghezza io appoggio solo il bordo estremo sinistro quindi farò un arco dove parto perché lo vedete ho bisogno di avere un tratto molto sottile poi lo vado a ingrossare allora come lo faccio se io appoggio tutto il mio strumento sono praticamente fregato perché eh mi mi fa subito cioè se l'appoggio vedete mi fa subito una roba grande mentre io bisogna che lui rimanga un po piccolo e lo posso fare vedete man mano appoggio arrivo là curvo faccio una bella curva e arrivo qua ecco questo tratto qua lo vedete l'ho fatto proprio col pennino man mano eh giro così lo appoggio finché entra poi in diciamo in contatto col supporto e eh lo faccio poi ho eh un movimento qua che è proprio una svirgola cioè così vado in tangenza la ecco è così poi vado qua sottile a 45 gradi mi fermo quando tocco poi mi posiziono qua col mio eh pennino e vado in orizzontale poi faccio una curva fin quasi alla base quindi sono qua mi fermo vedete che un piccolo tratto orizzontale qua bisogna non curvate subito un minimo di tratto ci deve essere e poi mi vado a raccordare anche qua con un anche se scendo sotto nessun problema anche qua mi raccordo in giusta posizione e quindi lo raccordo qua deve essere proprio solo un punto ecco anziché poi quella striscia che rischia di compromettermi un po di cose vi propongo una cosa un po diversa ma secondo me è sempre bello un'undia qua siamo sempre nel gotico e poi anche una una grossa undia qua dove fate anche qua vedete mi sollevo col pennino così ho quest'undia molto bella ok quindi diciamo la vera difficoltà non può fare solo questo è la partenza dovete abituarvi a fare eh questo esercizio proprio perché qua ho appoggiato tutto ma eh vedete io diventa vedete molto più lungo il tratto sottile allora rifacciamolo allora ho appunto adesso comincio ad appoggiare faccio un bel movimento al quarto ed è il primo poi ho questo quest'undia così che si rastrema e no non è una cosa così è sì si rastrema quindi due poi ho sottile e vado a morire sull'asta quindi tre poi sono qua orizzontale poi curvo non vado a toccare la linea di base quindi quattro e poi qua con l'ultimo segno lungo che mi chiude la lettera e cinque e poi ho quei due la allora l'undia qua non ho più molto spazio però l'undia è il sesto movimento e quello più lungo qua il settimo movimento e ce n'è parecchi però è molto bella eh questa secondo me è molto bella si riempiono perché qua io ho bisogno di mettere vedete che qua eh io avevo un grosso bianco ecco invece qua lo vado a riempire qua faccio questa cosa in più secondo me eh e oltre che più semplice è anche più carina da vedere ok quindi la b è andata andiamo con la lettera c allora eh qua eh ognuno può fare quello che crede cioè nel senso che sulle maiuscole ci posso possono essere più agi nel senso che eh qualsiasi eh l'ho già detto mille volte qualsiasi eh praticamente stile nelle maiuscole è un po' più libero ok quindi ci sono interpretazioni anche un po' personali che ognuno se voi guardate io qua siccome una corsiva eh anche se gotica vedete che sono molto tonde le lettere no queste la c la e la g sono molto tonde adesso le farò tonde ma nulla vieta che si possano fare un po' più squadrate comunque stiamo parlando di una gotica quindi se se c'è la si fa tutto nel primo tratto ecco io se la faccio tonda sarà così ma nulla mi vieta di farla un po' così più squadrata dipende potete fare entrambe le cose ok è molto libera sta cosa io io la faccio diciamo eh tonda allora mi metto qua appena sotto la linea mi metto qua e faccio questo movimento arcuato e lo chiudo qua poi vado leggermente sopra la linea di base ecco col col pennino però più inclinato cioè sono sono qua e quindi non è più 45 gradi ma ma ampio quell'angolo e vengo giù così poi mi metto disasso da questa roba qua mi metto qua e vado a chiudermi qua magari sollevo poi di nuovo il pennino e faccio questo cosa qua nulla mi vieta anche qua di fare di fare questo lavoro lo faccio qua cioè quella questo è questa costa qua ecco quella cosa là nulla mi vieta che posso farla anche così eh eh sono due cose è chiaro che questo lo devo fare eh cioè devono essere simili cioè se faccio questo faccio anche questo qua qua che tondo faccio tutto tondo eh devono avere una una sua devono avere insomma devono parlare la stessa lingua quindi potete divertirvi a farle tutte e due allora quindi la c ho questo movimento appunto circolare primo poi mi metto qua vado a rastremarmi e a curvare verso questa zona quindi due e poi il cappello disassandolo sempre un po' lasciate ecco venite vedete col pennino ve lo fa proprio di costruzione ed è il terzo movimento allora la lettera D allora anche nella D vi introduco una cosa la D è molto bella ma mi sono accorto che eh allora siccome nel medioevo vi ho già detto fino allo sfinimento che bisogna evitare le simmetrie mi sono accorto che qua è proprio simmetrico no e invece vorrei che questa proboscide qua questa curva qua venisse un po' più in fuori di questo questo qua sotto eh più indietro della parte sotto eh no più avanti più avanti cioè o arretro questo eh adesso adesso ve lo faccio vedere perché secondo me diventa molto più interessante sì sì più più a sinistra diciamo sì sì allora allora quindi io qua mi metto qua è un unico movimento questo eh cioè io ve lo ripeterò due volte ma è praticamente un unico movimento e poi ci sono solo eh le due lineette qua i due filetti ma eh allora eccolo qua allora allora mi metto qua quindi appena sopra scendo giù ecco a questo punto alleggerisco la mia mano vado più avanti rientro e faccio questo lavoro qua e poi qua eh forse ho esagerato persino con la provoscide però adesso la rifaccia eh bella bella come no no perché a questo punto diventa vedete aspettate facciamo l'altra adesso è esagerato eh adesso è fin troppo esagerato allora rifacciamola allora l'importante è che con la mano dovete alleggerire perché eh perché c'è da andare incontro diciamo nella parte sì allora si può anche fare però io ho notato che viene bene quando la fai di una botta sola eh perché se no se no si può fare così ma ma è diventa un po' più difficile cioè posso farla così poi mi vado a mettere qua eh e la vado a prendere qua e la prendo qua e poi la cioè posso anche farlo eh non però vi assicuro perché adesso mi mancava l'inchiostro se eh la punta abbastanza lubrificata si riesce a fare ricordate che assomiglia un po' alla minuscola eh sì 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 è proprio quello sì 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 però eh questa cosa qua di avere questa protuberanza sulla sinistra più spiccata vedete che la rende la rende decisamente la rende decisamente più interessante eh la rende decisamente più interessante e entra in quei canoni estetici del gotico che vi ho detto sempre quindi diciamo c'è tutto questo movimento ricordatevi alleggerite il tratto quindi c'è un unico movimento qua poi a questa altezza qua uno e due sono i filetti quindi secondo movimento terzo movimento ok quindi questa all'inizio può sembrare difficoltosa dovete avere ecco ci va il pennino abbastanza carico perché comunque l'inchiostro funge da lubrificante le cose vanno bene ok quindi quindi diciamo se avete l'accortezza provate poi comunque tenete conto che questo è un bestione da undici cioè qua ho arato mezzo foglio non sono non sono un granché di fogli e quindi ha fatto attrito vabbè comunque se ci provate eh non dimenticando che si può fare anche così se proprio non non vi viene vedete che non c'è molta differenza però in una botta sola secondo me c'è possibilità che venga meglio allora delle due io per assonanza con cosa abbiamo fatto nella C io farei eh anche la E eh più tosto sul tondo ok allora allora la E sono qua esattamente come ho fatto la C lo faccio circolare proseguo poi anche qua vado un po' sopra mi rastremo qua ok poi qua mi porto sempre un po' fuori asse da quello e faccio questo movimento qua poi vado a 45 gradi qua così e faccio questo filetto che entra poi mi posiziono qua proprio mi metto qua col pennino e faccio quest'altro ok se vedete anche se anche qua sono oltre la metà leggermente sopra la metà se potete perché anche questo rende un po' più interessante la lettera ok sempre se vedete anche qua era un po' c'era c'era più lo spazio qua vedete un po' su quindi il primo movimento è quel movimento circolare adesso mi è venuto squadrato ma però è questo poi c'è questo qui a scendere che muore qua quindi due poi c'è questo qui la parte qua che è così scendo qua e poi vado direttamente a morire contro diciamo questo segno qua quindi e poi vado giù quindi questo è il terzo e poi appunto con un'altezza se questa è la metà io sono qua e vado a fare questo movimento così col pennino magari leggermente più inclinato e magari non tanto spesso lo inclinate un po' di più così si differenzia un po' da da questi due che hanno la stessa ampiezza di tratto quindi questo è il quarto ok ok tutto bene sì tutto chiaro sì 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 dai allora arriveremo se riusciamo fino all'h così so che ne ho fatte otto così abbiamo sempre un po' più di tempo per respirare su tutto il coso allora allora la F la F ve ne faccio due perché ce n'è una che appunto è classica da gotico poi questa è una mia invenzione ma adesso ho cambiato anche questa qui la facciamo con la nuova ecco questa è una cosa mia anche questa P erano cose mie ma le facciamo diverse allora facciamo la prima F che è quella un po' più da gotica proprio allora è così scendo giù e vengo in qua poi alla base gli faccio il piede poi qua vado giù un po' di più così a 45 gradi poi esco ecco però a sto punto vi faccio fare una cosa che un po' la anche in altre gotiche l'abbiamo fatto sulle minuscole ma possiamo farlo anche qua cioè vado avanti così vado avanti così sottile esco e poi faccio il mio tratto orizzontale ecco qua diventa di vitale importanza ecco non mi è uscita bene perché sono alla metà non mi piace la rifaccio allora bisogna fare un po' più corto questo così che comunque deve essere più lungo di questo poi vengo qua e niente mi viene sempre bisogna accorciare ancora un po' quello lì comunque più o meno ci siamo è salita leggermente anche se di poco vedete questo il pennino è un po' più girato quindi ha un'infinazione diversa più sottile ma l'importante è che dovete sempre vedere un po' perché se no viene una macchia di colore qua brutta devo vedere vedete che si vede anche qua è angolino bianco sì è importantissimo perché se lo vedo viene una schifezza la lettera quindi diciamo che il primo segno è questo uno uno due vabbè l'ho attaccato poi questo qui è così si va lì ricordandovi che qua c'ho l'asta quindi devo uscire così lascio il bianco e poi faccio così quindi l'unico movimento ed è il terzo movimento ok adesso andiamo a vedere la F che vi avevo che ho proposto io allora la F che avevo proposto io è così allora mi metto qua così penino a 45 gradi tocco con la parte estrema destra la linea superiore di costruzione mi fermo vengo giù così mi fermo poi da qua devo andare a chiudermi qua quindi da qua mi chiudo così ecco a questo punto faccio questo lavoro qua vado anche oltre e poi qua faccio quest'altro a me piace molto cioè ok secondo me ci sta tutta con questo stile però un'invenzione ernestiana ma secondo me può passare con questo stile questa volendo si può fare anche più bassa facciamola magari un po' più bassa allora il primo movimento è questo uno poi da qua vado a chiudermi lì quindi sono qua e vado deve avere una sensazione di verticalità perché qua c'è sempre ho visto che c'è un po' di problemi da parte delle persone però valutatelo fate un po' di esercizi fin quando non lo vedete perfettamente verticale questa parte ok poi da qua andate a prendere salite anche sopra non c'è problema e fate il terzo movimento e poi il quarto è questo qua un po' più sottile quarto movimento ok dai siamo in linea con gli otto dai le otto lettere più o meno ce la facciamo allora ecco qua la G solita cosa e anche qua vi introduco solo un elemento ecco magari non non la farei più così perché mi terrei con queste aste un po' così ecco farei questa asta qua non che scende giù e con l'orpello che abbiamo fatto con la lettera B allora la vediamo adesso allora sono qua esattamente qua faccio la stessa roba che ho fatto un po' con la con la C però vado un po' più avanti allora sono qua mi spingo avanti vedete vado un po' più avanti con la mia curva poi qua faccio quel lavoro solito mi metto sopra e vado a morire qua poi disasso un attimo qua così 45 gradi vengo avanti vengo giù posso farlo veramente tutto in un vabbè adesso ve lo questo è un unico poi vabbè staccate e venite anche qua orizzontali un po' come la B e poi si chiude qua si va a rastrevare qua quindi da qua vado a cercarmi la chiusura ecco e qua ci sta bene questo coso qua vedete la chiudo bene anche qua è importante avere una certa vedete anche qua con questo punto sono qua con questo un po' arretrato non andate mai troppo avanti da portarvi con questo fin qua quindi deve essere sempre un po' un gioco di di contrasti di cose del genere allora quindi abbiamo il primo movimento circolare che si prosegue che prosegue decisamente quindi uno poi abbiamo l'asta rastremata che scende e va a morire contro la linea qua contro questo tratto quindi due poi qua disassato da quello ci mettiamo qua venite giù così poi a 45 gradi quindi leggero tratto leggero andate a morire praticamente contro quest'asta e quindi è così poi abbiamo il raccordo a chiudere qua appunto orizzontale poi chiudo fin quando mi aggancio qua e ultimo questo disegno qua questo orpello questo elemento aggiuntivo che è così e poi vedete sollevo la mia penna con il pennino lavora solo la parte estrema sinistra ok e questo è il quinto la riunione terminerà fra dieci minuti va bene ok se lo ricorda va bene ma tanto ce l'abbiamo fatta e vediamo quello che interessava ok allora la H allora la H parto leggermente sopra siccome posso anche andare un po' più in su dell'asta qua cioè dell'asta della linea di costruzione superiore e ho un primo movimento che è questo in discesa verticale così e un po' che si rastrema verso la base ok poi gli faccio il piede mi fermo quando tocco qua col pennino quando sono sulla base mi fermo ecco poi qua questo è tosto perché devo salire fare sta curva qua stando dove anche qua oltre la metà se questa è la metà io devo stare un po' più in su devo stare su questo piano qua quindi metto il mio pennino così vedete vedete che questo segno si rastrema poi qua un punto di dove appunto cambia diciamo tutta la qualità del segno viene qua e muore qua ok poi a questo punto faccio anche ecco qua era già previsto nella dispensa ho visto c'era l'unghia quindi c'è un'unghia qua e poi la cosa che cambia un po' è questa qua questo segno la testata diciamo in discesa così l'allungo un po' secondo me sta meglio un po' più lungo ecco qua mi metto qua e non proprio in tangenza deve entrare anche un po' adesso poi si vedrà con l'inchiostro deve 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 diciamo entrare leggermente qua e qua faccio lo stesso lavoro che ho fatto quindi un bel cappello sopra e quindi poi se qualcuno vuole qua stanno bene anche delle cose così insomma sono cose aggiuntive ma insomma vedete voi se farlo o meno anche qua si può fare una una coda insomma sono tutte cose in più che si possono inventare allora il primo movimento è questo allora così arcuato verticale che scende quindi uno poi il suo piede qua che termina quando tocco la base e poi quel movimento piuttosto impestato lo riproviamo devo arrivare più o meno qua quindi sono qua quindi una crescita cioè una decrescita scusate poi cambia e vado a morire qua insomma deve essere bello arcuato quindi tre poi vabbè questo lo potete fare quando volete facciamo facciamo adesso quarto movimento è l'undia quarto movimento è l'undia quindi questo è il quarto e poi appunto vedete che qua si vede bene ecco ecco è una meraviglia questo inchiosto fa schifo come inchiosto però mi permette di farvi vedere questi passaggi veramente notevoli quindi io entrerò poi qua dentro un po' con la mia asta e poi vado a fare la testa sollevo il pennino come al solito e quindi questo è il mio quinto movimento quinto e ultimo movimento le nostre otto lettere sono belle che fatte quindi adesso magari se avete qualche dubbio sulle lettere così direi di non partire subito con i gessi lo faccio dopo tanto c'è tutto il tempo solo se avete qualche dubbio qualche cosa che volete togliervi come diciamo dubbio maggiore la così chiarezza espositiva che volete in questi cinque minuti scarsi più o meno possiamo approfittarne ditemi voi scusa io volevo chiederti la F la F la parte diciamo orizzontale della lineetta che c'è a me ecco volevo sapere se è proprio a metà ma di questa? no no dell'altra ah l'altra no 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 allora l'altra guarda te la rifaccio qua la rifaccio un attimo no è da evitare di fatti questa mi è venuta a metà ma è molto importante adesso aspetta la rifacciamo ma c'è un segreto per riuscire a farla guarda la faccio qua l'importante è che sia un po' oltre qua mi è venuta esattamente a metà manca farla apposta proprio cioè qua l'ho sollevata un po' ma è sempre sulla metà allora il segreto è variare l'angolo di questo segno qua allora sono qua scendo così gli faccio il piede ok poi questo qui lo faccio un po' più corto e lo tiro e lo tiro un po' più su mi cambio anziché farlo venire lo apro un po' di più e poi vado giù eccolo qua ci vorrebbe leggermente sopra la metà insomma sì 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 l'importante ecco che sia che ne so qua cioè non dico due terzi ma ecco la metà è qua ecco la metà era qua la metà è qua sì 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 ho capito l'importante ma perché perché se no vengono un po' l'effetto croce quelle cose lì è sempre guardate guardate come è più interessante questa qua più aggraziata non che questa faccia schifo però le simmetrie diciamo nel medioevo la sapevano lunga la simmetria crea monotonia no in calligrafia purtroppo questa cosa qua poi poi si si evidenzia con una monotonia di lettura insomma problemi del genere quindi l'importante però però ecco questa cosa qua un segreto che vi dico quando andate così voi potete andare poi in orizzontale quando vedete che vi si apre proprio il bianco quando uscite di qua andate a qualche millimetro poi andate in là con la coda dell'occhio guardate che siete qua fuori andate un po' e poi venite però mi raccomando il bianco deve essere molto cioè deve vedersi e no se no diventa una macchia di inchiostro bruttarella e non va bene invece così secondo me è molto bello poi vi ripeto anche l'altra che avevo qua sotto anche questa è molto bella secondo me però possono essere utilizzate tutte e due questa siccome la corsiva gotica è molto fluente è molto piena di diciamo di svolazzi anche insomma sembra veramente una cosa araba alle volte quando si esagena e quindi sta roba qua secondo me ci sta l'altra ci riporta un mondo più gotico però d'altronde è quello da cui arriva quella scrittura quindi ci sta bene anche questo ok va bene altri problemi Adele sei silente palesati niente Adele si è no no ci sto ci sto stavo seguendo tutte le linee no no interessante come sempre poi bisogna rifarle però queste accortezze che ci suggerisci io me le sono anche scritte no ma tanto poi ti risenti il video e poi e poi e poi vabbè Gianchi è nuovo di voi siete già vecchi volpi dei miei corsi Gianchi e poi questa cosa qua io faccio un pdf te lo mando a tutti ok mi ci andrà solo un attimo di tempo perché adesso una volta me li facevo al lavoro e approfittavo della bella stampante che avevo là in due secondi adesso mi devo comprare una stampante che faccia le scansioni devo prendere quindi dovrete avere pazienza un attimo ma poi vi mando il pdf di questa cosa qua ok quindi quindi non c'è problema un'altra cosa prima che ci stacchi alle sei e mezza si riparte con l'altro sì e ti ricolleghi sempre al link che ho inviato ok quindi sempre lo stesso link sì sì qui lì ci rivediamo qua fra insomma un quarto d'ora venti minuti sei e mezza sei e mezza ci ricolleghiamo ok poi ma vado avanti così con sta camera perché insomma non voglio rischi poi in settimana vedo un po' di capire qual è il problema tra diciamo la mia nuova camera e zoom ma lo capiremo dai niente io a sto punto stacco perché tanto ci butta fuori lui e ci vediamo fra le sei e mezza ok d'accordo ciao dopo ciao ciao dopo ciao dopo ciao 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 ciao